Il rumore è sottofondo e stiamo tagliando la mozzarella A macerare, a mantecare, a ungersi Assorbe l'olio Come si chiama in bagno? Come si chiama in bagno? Come si chiama in bagno? Chi chiama in bagno? Chi chiama in bagno? Come si chiama in bagno? e diventa l'altro manto di un po' d'oro a me lo vi do di stagione non va diventare? è che vi diventare un po' d'arazzo non va diventare un po' d'arazzo grazie grazie ma c'è ma c'è eh bravo qua qua ma riaffondi un po' qua 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 questa oliva la pasta 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 che meraviglia che meraviglia che fragranza che bontà ecco l'altra guaglio guaglio ciwe chico facciamo un saluto dopo questa fatica ai nostri amici prego un saluto ciao ciao ragazzi